per lui quest'inverno pantaloni a 7 euro e 99 per lei un tocco di colore con i jeggings a 4 euro e 99 anche nell'elegante versione a poire così non litigano per i più giovani ecco la polo a maniche lunghe a 4 euro e 99 decisamente trendy quest'anno e per finire delizioso vestito a 7 euro e 99 se volete un tocco chic ecco appunto buon natale da lidl